Sono Enrico Restivo, docente di risoluzione dell'Euroforma. Sono Miriam Cassaro, docente di storia e discipline umanistiche presso la scuola Euroforma di Canicattì. Sono Miriam Gaglio, docente di informatica presso la sede Euroforma di Canicattì. Sono Davide Gentile, docente di matematica presso l'Euroforma, la scuola di arte e mestieri. Sono Clarissa Cassaro, docente di italiano e storia nella sede Euroforma di Canicattì in Larga Osta. Il nostro obiettivo comune come team di docenti è quello di creare le basi, le condizioni per una formazione professionale che veda questi ragazzi alla fine del percorso di istruzione competenti riguardo ad una professione, quindi un mestiere. Il nostro auspicio è quello che una volta conseguito il diploma, questi ragazzi possono trovare, avere la possibilità di realizzarsi lavorativamente. Qui, in questa scuola di professione e mestieri, stiamo formando chef, cuoco, aiuto cuoco, camerieri, comidi sala. Grazie all'aiuto anche dei miei colleghi professionisti del settore. Tanta roba per il futuro dei nostri ragazzi. Euroform, in quanto scuola dei mestieri, mira a formare a 360 gradi i ragazzi per inserirli nel mondo del lavoro. La didattica delle materie tradizionali come la matematica deve essere rivisitata per andare incontro alle esigenze e ai tempi delle materie tecnico-professionali che i ragazzi stanno studiando per il loro percorso. Quest'anno Euroform ha stiglato un accordo davvero importante e molto prestigioso con Apple Italy S.P.A. Si tratta di un accordo che cambierà radicalmente il modo di fare didattica. Avremo a che fare con i libri interattivi, tecnologie e metodologie all'avanguardia. Ecco perché Euroform è la scuola dei mestieri. Ecco perché Euroform è la scuola dei mestieri. Ecco perché Euroform è la scuola dei mestieri. Grazie a tutti.